20 maggio 1882. A Vienna viene firmata dagli imperi di Germania, Austria-Ungheria e dal Regno d'Italia la Triplice Alleanza. A volerla è principalmente l'Italia, desiderosa di rompere il suo isolamento e di contrastare l'espansionismo francese in Africa. La Triplice Alleanza verrà rinnovata quattro volte con alcune modifiche al testo diplomatico nel 1887, 1891, 1902 e 1912.